ciao a tutte e a tutti bentornati nel canale di mandorla e cioccolata un bacio grandissimo da patrizia oggi voglio farvi un video veloce velocissimo sugli aggiornamenti delle mie acque profumate per l'estate aggiornamento perché feci un video sulle mie acque profumate un paio di anni fa sono ancora quasi tutte qui quindi non vi riparlo di quello che vi ho fatto vedere vi faccio solo vi mostro solo velocemente insomma tutto il mio bottino e sono ancora quasi tutte qui non so se ne ho finita qualcuna ma credo di no perché in realtà io le acque profumate le uso davvero poco 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 e non uso molto di più profumi ma di quelle che vi ho fatto vedere nell'edizione scorsa sono ancora a consigliarvi queste due una è di equivalenza questa però purtroppo è uscita di produzione non c'è più ed è mango e ibisco e cocco queste acque di equivalenza sono dei dupe delle acque di victoria secret perché praticamente hanno una formulazione molto simile nel senso che sono entrambe con un'alta percentuale di aloe vera e in questo caso l'aloe vera dovrebbe essere anche bio comunque le acque profumate sono utili da utilizzare in vacanza in estate quando si sta moltissimo all'aria aperta perché hanno una più bassa concentrazione di alcol anche se comunque lo contengono quasi tutte perlomeno oppure ci deve essere scritto che sono alcol free e quindi sono meno irritanti per la pelle fanno meno reazione al sole sono se le possono spruzzare ce le possiamo spruzzare in grande quantità hanno una concentrazione di profumo minore e hanno più che altro un effetto rinfrescante perché comunque in estate magari l'utilizzo del profumo vero e proprio per alcuni non per me può diventare un po eccessivo allora quindi queste tra quelle che avevo fatto vedere come anche le altre io vi metto il link qui da qualche parte perché sono ancora tutte in commercio tranne questa che non lo era neanche due anni fa e sono validissime questa è molto fruttata è un cocktail tropicale però è inutile che ve ne parli perché non c'è più questa profumazione ma ce ne sono tante altre buonissime ce n'è una molto buona all'iris e credo che equivalenza faccia anche delle edizioni limitate ogni anno sono rinfrescanti sono prevalentemente fruttate o fiorite e validissime sono anche quelle di Victoria's Secret questo è il vecchio pack che io sinceramente preferisco questa me la regalò Mary vaniglia chic e mi piace molto mi ricorda un pochino il profumo per sieve di Avon mi ricorda anche un po' il dolce gabbana light blue è umida acquatica ma non marina ed è un floreale questa è a base di fresia e margherita poi tra quelle che invece mi sono arrivate diciamo in questi due anni che ho avuto modo di provare e che vi posso consigliare ci sono queste di Nani Nani è un brand che io trovo qui a Roma in vendita presso combipel ma si trova anche negli store dei cinesi credo forse lì anche il Tigota insomma si trovano comunque hanno un prezzo bassissimo e anche queste sono a base di aloe bio e hanno un basso contenuto di alcol seppure è presente allora queste me le ha regalate queste di Nani me le regalo Carmen Milk Coffee 1973 questa è la mia preferita a vento del sud e anche la più persistente tra tutte quasi a livello di una eau de toilette quindi questa ve la straconsiglio ma vi deve piacere ed è una fragranza io qui non andrei mai ad approfondire le note anche perché non sono facili da trovare è una fragranza a base di vaniglia un fondo legnoso e una punta ci avverto io anche di sale è molto particolare questa questa fragranza si potrebbe utilizzare comunque anche in altri periodi dell'anno seppur mantiene un qualcosa di esotico è molto persistente oh mio dio sono anche senza parabeni queste e senza peg e color free quindi sono abbastanza naturali un'altra molto estiva e fruttata è questa a base di ribes e cocco e questa la spiuto qui si molto fresca molto estiva molto fruttata appunto e sono acque profumate di trattamento quindi diciamo hanno proprio un effetto idratante e rinfrescante perché appunto contengono l'aloe vera e poi c'è questa che è quella un po' più delicata come fragranza che è mango e hibiscus questa è proprio più adesso qua farò un disastro questa è più delicata e anche la meno tenace proprio per chi non vuole un effetto strong ma nani ne ha tante 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 davvero c'è l'imbarazzo della scelta poi una delle mie preferite da quando comunque ce l'ho me l'ha regalata anche questa carmen tesoro mi hai regalato un sacco di cose tu ed è l'acqua profumata di pupa polvere di perla questa ve la straconsiglio è eccezionale è una fragranza che permane pur essendo un'acqua profumata permane abbastanza quasi a livello di una eau de toilette ma il profumo il profumo è per me che amo i floreali talcati rasserenanti è paradisiaca e anche il gel doccia è molto molto buono questa davvero se la trovate io ve la straconsiglio non è facile purtroppo da trovare e questa veniva in un cofanetto appunto insieme a un bel beauty case e a questo gel doccia ha della polvere di perla della linea home spa la fragranza è leggermente fiorita e talcata e ha un qualcosa di cremoso poi un altro top pure questa me l'ha regalata carmen è tutto un tutto un video dedicato a te o quasi insomma questa è la brasilian crush è una delle diciamo novità per me e sta spopolando è di sol de janeiro questa acqua profumata che è anche la crema corpo che è spaziale a me piace forse più la crema corpo che non l'acqua profumata ma anche lei è veramente buona e questa brum parfumata di questo brand che credo comunque sia americano il brand e che trovate in vendita da sefora allora questa qui a base di a un doppio tappo devo dire che qui potevano anche evitare un po' l'utilizzo eccessivo di plastica perché c'è questo tappo grande e poi c'è questo tappino comunque così è con i due tappi è carina effettivamente è molto esotica e sa di caramello salato e di pistacchio io amo tantissimo il pistacchio anche nei profumi e quindi questa mi piace assolutamente è molto dolce ha un fondo molto vanigliato è molto gourmand quest'acqua è assolutamente esotica anche lei quindi persistenza diciamo media se la unite alla crema corpo ovviamente vi darà molta molta soddisfazione e tra l'altro parlando di pistacchio vi faccio vedere anche questa che secondo me può essere equiparata a un'acqua profumata da utilizzare comunque in estate questa è una diciamo travel size da 15 ml di the library of fragrance ed è la pistacchio ice cream ne ho anche altre con gusti però un po' più invernali mandorla e dark chocolate queste sono acque di colonia ma insomma diciamo che siamo lì questa qui sta proprio di gelato al pistacchio è fantastica davvero dolce il giusto perché il pistacchio comunque è un frutto secco e non è eccessivamente dolce ma ovviamente qui c'è anche l'aggiunta di vaniglia che si avverte e qui la persistenza pure è di un'acqua di colonia diciamo un po' più persistente di una normale acqua profumata allora poi ho altre cose che vi avevo fatto vedere è questa che è la hibisco e carcadè di biopoint sì questa ad esempio è molto più speziata per i miei gusti non la trovo così floreale sarebbe più adatta all'inverno secondo me andiamo un po' veloce poi c'è questa di lovea che è un'acqua scintillante idratante che ha delle particelle dorate che un pochino rimangono ed è molto delicata a base di frangipane però questa dura poco devo dire la verità è più quella quell'acqua rinfrescante da utilizzare proprio quando si è all'aperto per darsi una botta di vita più che per profumare anche se nel momento da anche un po' di profumo e poi le novità invece interessanti che ho scoperto quest'anno sono le acque profumate di Avon che io vi straconsiglio allora io ne ho tre al momento Avon le ha fatte per i profumi diciamo un po' più di medio o alto livello non mi ricordo se l'ha fatta anche per il Faraway ma non credo comunque la mia preferita è la Little Black Dress perché io adoro questo profumo ma essendo questo un profumo abbastanza frizzantino, pepato, con un'apertura fortemente agrumata un po' stile Chance di Otandre per intenderci, non è un dupe come stile trovo che come acqua di trattamento questa profumazione sia l'ideale per avere questo profumo comunque femminile, rinfrescante ed energizzante e ne ho consumata di questa più della metà ho finito il profumo Little Black Dress quindi adesso sto usando lei poi magari in autunno me lo ricompro sono fedelissime rispetto al profumo quindi la fragranza è veramente quella e può essere anche un buon modo per conoscere il profumo prima di comprarlo perché costano poco queste acque profumate da 100 ml e le trovate generalmente in vendita intorno ai 3 euro quindi un prezzo veramente buono ed hanno una buona durata poi un'altra delle mie preferite che ho comprato da poco è l'acqua profumata di Perseve che sapete è uno dei miei profumi preferiti di Avon questa la posso paragonare come fragranza un pochino a questa anche il colore o a questa di Victoria's Secret come genere è un floreale molto raffinato un pochino umido diciamo un fondo leggermente legnoso ma leggermente che è perfetto per indurvi in un clima di relax ecco e poi ultima ma non ultima è quella di Incandescence che è un altro dei miei profumi preferiti che è un profumo che in estate magari non potrei portare perché è abbastanza persistente Incandescence si ispira come genere a J'adore di Dior io trovo molte somiglianze tra i due non potrei dire quale mi piaccia di più perché Incandescence non è un dupe di J'adore ha una sua personalità però insomma il genere è quello lei è uguale al profumo Incandescence e quindi potrebbe essere un'alternativa ad esempio se vi piace J'adore ed estate volete una sua variante comunque floreale è abbastanza legnosa ma è ricca ma più leggera diciamo è portabile volevo farlo breve breve però vedete comunque alla fine i 10 minuti si superano sempre quando si parla di profumi questi sono i miei consigli se avete qualcosa a voi da consigliarmi sono qua scrivetemelo sotto nei commenti vi leggerò e vi risponderò di solito rispondo sempre a tutti a meno che io proprio non mi accorga del commento devo dire ultimamente YouTube ha fatto anche qualche bel casino con le notifiche infatti io spesso comunque entro dentro i video e controllo me li scorro quando ho tempo e non aspetto le notifiche per rispondere però insomma quando ho tempo allora grazie al prossimo video ciao ciao ho ho ho